Importante, piacevole, siamo in Francia, qua la bacheca è stata impreziosita da una ricchezza di intarsio assolutamente piacevole, le dimensioni sono 75 l'altezza, 75 la larghezza, 54 la profondità. Poi abbiamo lo spazio per quanto riguarda l'esposizione, cioè tra la base sottostante e il coperchio che è di 13 cm, è chiaro? Poi naturalmente sotto si può mettere anche qualche altra cosa, preziosa, la parte sovrastante è in cristallo molato, non è vetro, è cristallo molato. Qua invece è vetro, però per carità, è molto bella, è molto particolare, è d'epoca.